La bambina si addormenti, si addormenti e fa un bel sonno e si sveglia domani al giorno. Do' erano tutti gli uomini? Do' è il mio padre? La nostra costituzione pieta, la riorganizzazione del 18 partito fascista. Cara madre, vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che la mia condanna è la pena di morte. Se ho commesso questo mio fatto è precisamente perché ero stanco di vedere un mondo così infame. Addio cara mamma. Dove sei andato? Dove sei stato tutto questo tempo?